Appuntamenti in agenda per martedì 26 marzo. Torna a Sassirilevante il mercato agricolo e delle autoproduzioni chilometro zero. Dalle 9 alle 13 in via nazionale zona Tannino si potranno acquistare prodotti del territorio, distribuiti dai contadini e dagli allevatori. Continua Palazzo Tours in via Garibaldi a Genova la mostra fotografica Emozioni di Sport di Massimo Lovati. Ingresso libero dalle 9 alle 19. Nell'ambito del percorso comune di prevenzione nei confronti di tutti i cittadini, Lauser Tiguglio, il MIG Tiguglio e futura APS Lavagna organizzano un incontro su contrasto al gioco d'azzardo. L'appuntamento è alle 15.30 all'interno della Sala Rocca Lavagna. Interverranno Giuliano Cella, Marina Dondero, Aurora Pittau e Laura Reni. Riparte l'apertura settimanale del Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure. Dalle 17 alle 19 sarà possibile visitare la fortezza, in cui sono stati allestiti nuovi spazi multimediali. Il costo del biglietto è di 3 euro. Gratis l'entrata per i residenti nel comune e gli under 14. Per commemorare il centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, il Circolo Arci Zenzero a Genova inaugura una mostra di pittura, in ricordo del deputato socialista. Alle ore 17.30 all'interno del Circolo, Sergio Giordanelli e Anita Ginella presenteranno un'esposizione, che resterà aperta fino al 9 aprile compreso. Seguirà aperitivo a offerta libera.